Ma potremmo iniziare, abbiamo deciso di fare una canzone dedicata in qualche modo al Max che si sta riprendendo dal suo piccolo incidente domestico però possiamo fare anche un piccolo gasper visto che siamo vicini al Natale non so voi che siete messi con quello che sta di sopra, che comanda questo è uno dei tanti brani che si possono ascoltare in Mississippi dove le funzioni, la messa, sono chiese battiste quindi è un altro modo di pronunciarsi e di parlare con Dio le funzioni loro non sono come da noi che durano 40 minuti, 1 ora, 9 e mezza là iniziano le 9 di mattina e a metà, all'ora del Vangelo, accendono il barbecue mentre si continua a pregare, cantare, suonare e quindi la funzione può durare dalle 4 alle 5 ore non è che questo brano durrà così, però è tanto per dare un po' un'idea di come sono e con la mano da metà, all'ora da metà, all'ora da metà Neu Grazie per la visione 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 Grazie per la visione